L'economia di mercantilismo consiste nel, produrre all'interno del paese tutto quello che si può produrre riducendo importazioni con Dazi, favorire esportazioni, accumulare risorse di metalli preziosi. Visto che dispone di colonie può permettersi il mercantilismo la Francia favorisce l'immigrazione, infatti, gli italiani andavano a lavorare per il settore tessile. Se una nazione non ha i risorse non può adottare la politica mercantilistica, tipica degli stati assoluti come Francia. Grazie